Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ciaspole Ferrino Pinter Special, ovvero le ciaspole più economiche che ci sono sul mercato. Oggi insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito dalla caratteristica che più mi è piaciuta di queste Pinter Special, ovvero la loro forma. Sono delle ciaspole estremamente strette, veramente molto strette che quando andiamo a utilizzarle per camminare non ci danno fastidio, non dovremo tenere le gambe particolarmente larghe, riusciremo ad avere una camminata veramente molto molto naturale. E questo è particolarmente apprezzato soprattutto se dovessimo fare delle ciaspolate lunghe, anche se siamo dei principianti che magari potrebbero prendersi dentro con le ciaspole, in questo caso non succede. Quindi davvero devo dire una forma del telaio molto molto buona. Questa stessa forma del telaio però ha anche dei ma, ovvero essendo una ciaspola con poca superficie, è una ciaspola che ha una galleggiabilità abbastanza ridotta. Ferrino consiglia di non superare i 90 kg come carico. Io sono 70 kg e vi assicuro che già sprofondavo abbastanza. Secondo me 65-70 kg è un po' il limite di queste ciaspole, dopodiché davvero si sprofonda un bel po'. Se anche voi come me doveste pesare 70 o più chili, vi rimando alla recensione delle sorelle che abbiamo fatto settimana scorsa, le Castor Special, che in quel caso invece sono più adatte per un pubblico più pesante. Ma analizziamo questa ciaspola partendo dalla parte inferiore, dove troviamo semplicemente 6 spuntoni, 6 ramponcini che andranno a garantirci il grip. C'è da dire che, vabbè, su neve non ha nessun problema, quando iniziamo a trovare la neve un pochino più ghiacciatina, solo 6 di questi ramponcini non è che sono proprio l'ottimale, è un pochino scivola. Torniamo poi invece nella parte anteriore, sotto quella che sarebbe la punta dello scarpone, il classico rampone a tre punte, che invece ci dà un ottimo grip quando dobbiamo andare a lavorare proprio di punta in salita. Parte inferiore c'è da dire è veramente molto molto semplice, adatta sicuramente a un terreno nevoso che non sia magari traversa, vi dicendo. Ma poi di questo ne parliamo. Passando alla parte superiore, beh, il telaio ve l'ho già descritto prima che mi è piaciuto molto. L'attacco anteriore ha un angolo non troppo elevato, quindi questo, anche se dovessimo trovare degli ostacoli, eccetera, potrebbe rappresentare, non dico un problema, comunque un pochino di impedimento. Invece quello che mi è piaciuto tantissimo è l'alzatacco. Un'alzatacco fatto in plastica, molto semplice da azionare, azionabile anche col bastoncino, ci permette sia di fermarne la basculazione per quando dobbiamo riporle a riposo, sia di poterlo utilizzare a basculazione aperta quando andiamo in cammino, sia di utilizzarlo come alzatacco per quando andiamo in salita. Devo dire, è veramente molto semplice, molto efficace, estremamente semplice da azionare e mettere a riposo. Mi è piaciuto tantissimo, cioè questo alzatacco, vi assicuro, è tanto semplice quanto efficace, quindi molto molto bene a questo punto di vista. Parlando invece della piastra su cui va il piede, innanzitutto è regolabile, va bene da un 36 a un 48 e io l'ho utilizzata proprio come 48 ed è proprio il limite, oltre non potete andare. Però è semplicissimo azionarla perché basta muovere la levetta presente sul tallone e poi andrà a muovere la talloniera sulla piastra, quindi veramente semplice. Talloniera fatta bene, ospita bene il piede. La parte di chiusura innanzitutto è regolabile su due punti. Abbiamo la parte interna da regolare, la prima volta che compriamo le ciaspole e non la tocchiamo più, e la seconda invece a cricchetto, molto classica, simile a quella degli snowboard. La cosa che poi mi è piaciuta è che anche se sono delle ciaspole entry level, troviamo comunque il pad che va sulla nostra caviglia che è in tessuto. Questo ci garantisce un'ottima pressione, non ci farà male il piede, anche se dovessimo stringerlo veramente tanto. Nella parte anteriore invece, dove poi va la punta dello scarpone, qui abbiamo una classica chiusura fatta a fibra ad andare a tirare, in modo tale ad andare a stringere il nostro scarpone. Nulla di eccezionale, però comunque lavora bene. Ma arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste ciaspole e dove è meglio utilizzarle. A livello di utilizzatore, come vi dicevo, dovete essere abbastanza leggeri, 65-70 kg al massimo, non di più. Per chi le consiglio, sicuramente per un utilizzatore principiante, magari uno che ha le prime armi, uno che sta comprando anche la prima ciaspola, non sono delle ciaspole col quale andare a fare, ad esempio, terreni complicati. Niente traversi, veramente traversi pochissimi, più levitate meglio è. In neve fresca, se siete leggeri, ci andate veramente molto bene. Potete comunque fare delle ciaspolate lunghe, quello non è un problema. Anche con un po' di dislivello, perché comunque, nel momento in cui andiamo a utilizzare la punta della ciaspola, quella lavora bene. Quindi diciamo che, secondo me, sono ideali per fare magari quelle camminate fino al rifugio, escursioni con dislivello, ma su terreni molto semplici. Non andrei a fare dei fuori pista complicati, non andrei a fare delle ciaspolate ad alta quota con dei traversi complicati. Ecco, diciamo veramente per un utilizzo abbastanza basic. Dunque, arriviamo alle conclusioni, perché se prima vi ho detto che sono le ciaspole più economiche sul mercato, adesso vi riporto il prezzo. Online si trova di solito in un prezzo tra 85 e 90 euro, ma molto spesso le si trova anche in sconto a 75 euro. A 75-80 euro sono veramente le ciaspole più economiche che ci sono sul mercato. Pensate che neanche quelle di Decathlon costano così poco. Dunque, è sicuramente una ciaspola che io vado a consigliare a chi è alle prime armi, a chi vuole approcciarsi al mondo delle ciaspole, ma non vuole fare terreni complicati, a chi prende una ciaspola, la utilizza per andare fino al rifugio e torna a casa. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questa recensione, vi ingazzola guardata, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!